Non più soltanto numeri ma anche un volto, quello del più noto risanatore di imprese in crisi, Enrico Bondi. Sarà lui a guidare la task force incaricata dal governo Monti di individuare quei tagli che dovrebbero portare risparmi immediati per poco più di 4 miliardi di euro, così da scongiurare l'aumento dell'IVA previsto ad ottobre e blindare il pareggio di bilancio al 2013. Non solo, un miliardo potrebbe essere destinato al rilancio dell'economia, alla crescita, ossigeno per le imprese oramai stremate. Il nome di Bondi richiama la bonifica di Parmalat e forse è meglio evitare paragoni, ma non c'è dubbio che il manager, passato anche per la Montedison, abbia una storia che fa rima con rigore, un grande risanatore dunque ma anche uomo di tagli. A portare il suo nome al Consiglio dei Ministri di questa sera è stato Piero Giarda, il ministro per i rapporti con il Parlamento, incaricato da Monti di lavorare sulla spending review, di individuare dove lo Stato spende male o troppo e lì tagliare. Un rapporto che si trasformerà in un disegno di legge oppure in un decreto legge, ancora non è chiaro, entro il mese di maggio o giugno al massimo. Due mesi di tempo insomma per verificare tutti gli elementi di spesa pubblica considerati non vincolanti, come lo sono ad esempio pensioni e stipendi, con l'obiettivo quindi di risparmiare ma senza danneggiare ulteriormente i cittadini o comunque il meno possibile. Il governo questa sera ha istituito un apposito comitato interministeriale presieduto dallo stesso Monti e del quale fanno parte oltre a Giarda anche il responsabile della funzione pubblica Patroni Griffi, il vice ministro Grilli e il sottosegretario Catricala. Cinque ministeri passati al setaccio nei lavori preliminari della Commissione, interni, giustizia, difesa, istruzione ed esteri. Per un risparmio complessivo di 13 miliardi entro il prossimo anno. Questo il terreno di caccia, prefetture che verranno accorpate, tribunali e uffici dell'Inps che saranno razionalizzati. Così come le forze dell'ordine, il ministero della difesa ha già stilato un piano di riduzione degli effettivi da 180 a 150 mila e poi le province del cui accorpamento si parla da tempo. Occhi puntati anche sulla scuola, la maggior parte della spesa è per il personale ma gli insegnanti, almeno per ora, non verranno toccati. Un cammino, quello per il risanamento che si annuncia a lungo, ma i tagli sono partiti. Il cacciavite di Bersani, il bisturi di Cicchito. Prima ancora di conoscere entità e destinazione dei tagli nella pubblica amministrazione, la maggioranza montiana apre il fuoco di sbarramento sulla spending review. Niente tagli al comparto sicurezza, avverte Gasparri dal PDL. Non si tocchi la scuola, avvisa Bersani dal PD, che invita invece il governo ad usare il cacciavite per rivisitare il settore difesa. Cicchito, PDL, chiede a Monti di operare con il bisturi anziché con l'accetta per ridimensionare le spese del personale. Il PDL poi boccia come grottesca la nomina di un commissario addetto ai tagli esterno al governo. D'altra parte, a meno di una settimana dal primo test elettorale dell'era tecnica, i partiti temono che dal provvedimento all'esame del governo possa arrivare il messaggio di ulteriori sacrifici, preoccupazioni politico-elettorali che il Premier fatica a digerire, impegnato in quella che a Palazzo Chigi definiscono operazione verità sui costi della pubblica amministrazione. I partiti in questo momento hanno altri problemi. Fare campagna elettorale, cercare di tenere a bada l'ondata di antipolitica che monta nel Paese e provare a tirare fuori qualche ricetta anticrisi o antitasse. Se Alfano propone di detassare i crediti di quegli imprenditori che aspettano di essere pagati dalla pubblica amministrazione, Bersani rilancia la tassa sui patrimoni immobiliari e sulla spesa pubblica invita i colleghi di maggioranza a stare zitti per un giro. Che qualcuno dia un'occhiata all'andamento degli ultimi 15 anni della spesa corrente in Italia, veda quando è stata messa sotto controllo e quando è cresciuta. E si vedrà una curva, i grafici sono a disposizione di chiunque, dove quando ha governato il centro-sinistra era sotto controllo, quando è arrivato il centro-destra è sbarellata. Casini risparmia il PDL, attacca chi ora vedi la Lega, cavalca lo sciopero fiscale sull'Imu. Perché le promesse fiscali sono indecenti, c'è gente che fino a ieri ha governato il paese e oggi ci spiega che non bisogna pagare le tasse, che queste imposte sono ingiuste. Ma dov'erano quando è stato abolito l'ICI? L'abolizione dell'ICI per 4 anni ci ha obbligato oggi a rimettere un'Imu più pesante. Chi è responsabile delle ricette fallimentari di questi mesi, abbia almeno il pudore di stare zitto.